Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi, nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi su Instagram e vi ricordo che se non attiva anche su Facebook vi lascio il link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Rabbia o impulsività? Stress o pressione? Problemi di controllo e dominio? Per alcuni delitti risalire al movente è una vera impresa. È l'estate del 2005 e ci troviamo a Salisbury, una città degli Stati Uniti, precisamente nel North Carolina. La protagonista del caso di oggi si chiama Brittany Lottris e nasce il 7 maggio 1987. Vive a Salisbury, nello specifico in una casa a Scale Street, e la sua famiglia è composta da sua madre Angela, suo padre Roderick e la sorellastra Asti, di due anni più giovane di lei. Nel 2005, l'anno in cui si verifica questo caso, Brittany ha 18 anni ed è sempre molto legata a sua sorella, anche se le due non abitano insieme. Brittany e Asti hanno lo stesso padre, ma sono nate da madri diverse. Brittany vive con sua mamma e con il suo compagno Reginald Wicks Jr., che si fa chiamare Reggie, mentre Asti vive con il padre di entrambe. Sebbene le due sorelle non condividano la stessa casa, la loro unione è inscalfibile. Asti racconta che parlava con la sua sorellastra ogni singolo giorno. Brittany chiamava sempre Asti. Era la prima persona con cui dialogava la mattina, quando si svegliava, e l'ultima, quando andava a dormire. In pratica le due sono inseparabili. Oltre a essere sorelle, sono anche migliori amiche. Brittany, che, come detto, vive con la madre Angela, è però molto legata anche a suo padre biologico Roderick. L'uomo descrive sua figlia come una ragazza speciale, dà il cuore d'oro, è il suo angelo. Brittany, in effetti, è una ragazza piuttosto tranquilla. Non ama andare a fare festa in discoteca, apprezza di più passare la serata a casa, guardando un film e mangiando qualche snack. Brittany frequenta la North Rowan High School, nel North Carolina, ed è una studentessa intelligente che prende sempre buoni voti. Ama anche lo sport, infatti corre su pista. In più partecipa a un coro giovanile ed è un membro attivo della chiesa locale. Sua madre Angela e il suo patrigno Reggie sono molto religiosi e assidui frequentatori della chiesa, quindi la ragazza va sempre ad assistere alle messe con loro. Nel maggio del 2005 Brittany si diploma e trova un lavoretto stagionale per mettere da parte qualche soldo. Infatti, terminata l'estate, vuole andare al college. Ha in programma di frequentare Rowan Cabarros Community College per poi trasferirsi alla N.C.A.N.T. State University. Brittany vuole ottenere una laurea nell'ambito dell'istruzione perché il suo sogno è quello di diventare un'insegnante. Nel complesso, la ragazza sta vivendo un periodo ricco di cambiamenti. Ha appena finito il liceo, ha da poco raggiunto la maggiore età e ha trovato un impiego per iniziare la sua carriera lavorativa. È un momento molto emozionante per lei. Ha un futuro da costruire. Tragicamente, questo futuro Brittany non potrà mai viverlo perché nell'estate del 2005 viene trovata senza vita nella sua abitazione. È l'11 luglio del 2005 che sembra un giorno come tanti per la ragazza e la sua famiglia. Non sono noti nel dettaglio i piani di Brittany per la giornata, ma sia sua madre Angela che il suo patrigno Reggie escono presto di casa quella mattina per recarsi al lavoro. Brittany quindi rimane a casa da sola e quando Reggie rientra, poco prima delle 16 di quel pomeriggio, fa una scoperta davvero straziante. Subito dopo essere entrato nell'abitazione, nota che c'è parecchio disordine. I cassetti dei mobili sono aperti così come l'armadio che contiene il computer. Reggie è disorientato. Lui e la sua compagna, prima di uscire, non avevano lasciato la casa in quello stato. Sono persone ordinate. Reggie inizia a camminare lungo il corridoio urlando il nome di Brittany, ma non riceve risposta. Così si dirige direttamente nella sua camera e ritrova la figliastra sdraiata sul letto, ricoperta di sangue. Brittany non si muove. Sembra senza vita. Reggie si agita e inizia a urlare per far sì che la sua voce raggiunga il padre, Reginald Wicks Senior, che lo sta aspettando in macchina. Infatti i due lavorano insieme nell'impresa edile di Reginald Senior. Reggie Junior quel pomeriggio è tornato in fretta a casa proprio per recuperare alcuni documenti di lavoro di cui ha bisogno. Quando Reginald Senior sente suo figlio urlare, si precipita in casa, fa la ghiacciante scoperta e chiamano immediatamente il 911. I servizi di emergenza corrono sul posto, ma purtroppo non possono fare nulla. Brittany è deceduta e viene dichiarata morta. Anche la polizia arriva sulla scena del crimine perché viene presto stabilito che la morte di Brittany non è stata un incidente. Lei è stata vittima di un brutale omicidio. I detective teorizzano immediatamente come Brittany è stata uccisa e anche i primi soccorritori hanno visto che era stata pugnalata sul collo. L'assassino aveva provato a tagliarle la gola. Ecco il motivo di quella notevole quantità di sangue. La polizia osserva anche che il sangue si concentra tutto in corrispondenza dello spazio che il capo di Brittany occupava mentre lei era sdraiata sul letto. Questo indica due cose. Sia che Brittany era stata aggredita e pugnalata lì, sia che non aveva combattuto molto contro l'assassino. Se avesse provato a rispingerlo e scappare, il sangue si sarebbe sparso ovunque. Brittany neanche presenta ferite da difesa sul corpo, non c'è niente sulla scena del crimine che suggerisca una lotta tra lei e l'aggressore. La polizia, oltre alla coltellata alla gola, nota anche un segno di legatura intorno al collo della ragazza. Sembra sia stata strangolata con qualcosa. Forse una gruccia dal filo metallico, oggetto che viene individuato sul pavimento della camera da letto di Brittany. Come vedete dalla foto, la gruccia è piegata e pare corrispondere al segno che si evidenzia sul collo della vittima. Quell'appendiabiti probabilmente è stato usato per strangolarla esercitando pressione fino a quando Brittany non aveva perso coscienza. A quel punto il colpevole l'aveva accoltellata alla gola. Questo deducono gli investigatori. Dato che era ormai priva di sensi, Brittany non poteva tentare di reagire e di vincolarsi. Ecco perché la pozza di sangue si concentra tutta in un solo punto del letto. Viene anche stabilito che l'assassino aveva portato via con sé l'arma del delitto. Infatti controllando in cucina la polizia scopre che mancano un paio di coltelli dal ceppo. L'aggressore doveva averne usato uno per pugnalare la vittima al collo. Questa teoria viene poi confermata durante l'autopsia. Infatti il medico legale afferma che Brittany era stata prima strangolata con l'appendiabiti e poi quando aveva perso i sensi era stata pugnalata. Brittany è morta proprio a causa della ferita al collo. E viene anche stabilito che la ragazza potrebbe aver subito violenza intima dato che la sua zona intima riporta un'abrasione. Siccome però non viene ritrovato alcun liquido seminale forse l'autore del reato aveva usato il preservativo. Il medico legale comunque non riesce ad appurare con certezza che la ferita nella zona intima sia stata causata da una pericolazione brutalizzante. Quindi in sostanza la polizia non sa se la ragazza avesse avuto un rapporto consensuale o meno con l'aggressore o con un altro uomo poco prima della sua morte. Il fatto che non si evidenzino ferite da difesa sul corpo della vittima fa emergere dei dubbi anche per questo non si può escludere l'eventualità di un rapporto consensuale. Certo l'assassino potrebbe essersi approfittato di Brittany mentre lei era incosciente ma questa circostanza purtroppo è impossibile da provare. Le vittime di violenza intima non reagiscono sempre allo stesso modo. L'esperienza è traumatica quindi non si delinea un modo più ragionevole e idoneo di affrontare quel momento. Alcune donne lottano fino alla fine con tutte le loro forze altre rimangono congelate dalla paura e dall'orrore. Va comunque considerato che la ragazza quando è stata ritrovata sul letto senza vita indossava un pigiama. Questo suggerisce che fosse stata uccisa quella mattina presto dopo che la madre e il patrigno erano usciti per andare a lavorare. Qualora fosse stata aggredita intimamente dall'autore del reato poi lui si era preoccupato di rivestirla al termine della violenza. Esattamente come il resto della casa anche la camera di Brittany è molto disordinata. I suoi armadi e i cassetti di un mobile sono aperti con alcuni vestiti che sporgono fuori e altri sparsi ovunque nella stanza. Questo apparente saccheggio porta la polizia a ipotizzare che l'omicidio di Brittany fosse legato a un tentativo di rapina. Forse l'assassino si era introdotto in casa con l'intenzione di commettere un furto con scasso pensando che nell'abitazione non ci fosse nessuno. Allora nel ritrovare Brittany in camera da letto l'intruso era andato nel panico e aveva optato per ucciderla visto che lei era una potenziale testimone. Tuttavia questa teoria della rapina presenta delle grosse falle. In primo luogo, anche se la casa è stata devastata, pare non manchi nulla a parte il cellulare di Brittany. Tutti gli oggetti di valore sono ancora presenti come i gioielli di famiglia le carte di credito di Angela e Reggie, il computer. Eppure l'aggressore avrebbe ricavato parecchi soldi se fosse riuscito a rivendere tutto. In secondo luogo, sulla porta e sulle finestre dell'abitazione non si rilevano segni di effrazione. In definitiva, la teoria della rapina non regge. Probabilmente la scena del crimine era stata manomessa dall'assassino proprio per depistare le indagini. Quindi, forse Brittany conosceva il suo assassino. Egli aveva tranquillamente aperto la porta di casa quella mattina. Di certo non avrebbe mai fatto entrare uno sconosciuto, soprattutto se era da sola. Eppure l'assassino aveva addirittura accesso alla casa, perché è proprietario della chiave. Potrebbe essere stato un familiare a togliere la vita a Brittany. Ovviamente, nel corso delle indagini, la polizia studia attentamente i cari di Brittany. Del resto, è una procedura standard in ogni caso di omicidio. La polizia indaga quindi sul padre della diciottenne, Roderick, su sua madre Angela e sul suo patrigno Reggie. Roderick, il papà biologico di Brittany, è il primo a essere escluso dall'indagine. Non ha nulla a che fare con la morte di sua figlia. Sappiamo che non viveva con lei. Inoltre, la polizia riesce ad appurare che l'uomo era fuori città il giorno del delitto. La polizia quindi parla con la mamma, Angela, e la donna afferma che era stata al lavoro tutto il giorno. Era uscita di casa molto presto quella mattina e non era rientrata fino al tardo pomeriggio, quando il cadavere di sua figlia era già stato scoperto. La polizia controlla l'alibi di Angela e lo trova valido, quindi anche lei viene esclusa dall'indagine. Passiamo al patrigno di Brittany, Reggie, che racconta una storia simile a quella di Angela. Anche lui era stato al lavoro. Tuttavia, la polizia ha maggiore difficoltà nel verificare il suo alibi a fondo. Come detto, lui lavora nel settore edile e non segue orari d'ufficio prestabiliti. Reggie si sposta molto spesso da un cantiere all'altro. Mentre i detective risalgono i suoi spostamenti di quel giorno, tracciano anche altre linee di indagine. Bussano alle porte dei residenti di Scale Street, la via in cui abitava Brittany, e domandano loro se avessero visto sentito qualcosa di anomalo quella mattina, qualcosa di correlabile all'omicidio. Un paio di persone del vicinato affermano di aver visto un uomo che correva nel quartiere. Può essere lui l'assassino? Stava scappando dalla scena del crimine dopo aver ucciso Brittany? Oppure è semplicemente un uomo che ama correre? La polizia deve approfondire questa pista mentre continua a indagare sulle persone che ruotavano intorno alla vita di Brittany, dato che, come vi ripeto, nella dimora non si rilevano segni di effrazione. Gli investigatori sono abbastanza certi che la ragazza sia stata uccisa da qualcuno che conosceva, e non da un perfetto sconosciuto. Emerge che Brittany aveva un fidanzato, un ragazzo del college, del quale era molto innamorata. Sua sorella Asti spiega che Brittany parlava costantemente del suo fidanzato, perché era molto felice con lui. E anche lui sembrava molto felice con lei, ma nonostante questo viene considerato una persona di interesse per l'indagine. Il ragazzo viene convocato alla stazione di polizia per essere interrogato. Anche lui ha un alibi che gli agenti riescono a verificare, quindi pur il fidanzato di Brittany viene escluso dall'indagine. La polizia esamina anche gli ex fidanzati della ragazza, uno di loro in particolare, perché aveva avuto problemi con la legge e non era un tipo affidabile. Brittany, circa cinque anni prima della sua morte, cioè quando non aveva nemmeno 14 anni, aveva affrontato un aborto. E si presume che sia stato questo ragazzo, poi diventato un ex ad averla messa incinta. Tuttavia, anche lui presto non viene più considerato come un sospettato dell'omicidio. Fin da subito si è dimostrato disponibile a collaborare con la polizia, a sostenere l'interrogatorio e a fare tutto il necessario per dimostrare la propria innocenza. Ha accettato di fornire tranquillamente dei campioni del suo DNA e di sottoporsi al test della macchina della verità. La polizia, quindi, è certa che non sia lui il colpevole. E, come accennato, lo esclude dalle indagini. I detective stanno imboccando diversi vicoli ciechi, ma presto qualcuno sale rapidamente in cima alla lista dei sospettati. Si tratta del patrigno di Brittany. Reggie. Infatti, dopo il suo primo colloquio con gli investigatori, in cui ha fornito il resoconto degli spostamenti effettuati il giorno dell'omicidio, i sospetti sono aumentati. Anche se aveva accettato di tornare entro un paio di giorni alla stazione di polizia per consegnare i suoi campioni di DNA, Reggie, poi, non si è più presentato. Siccome non ha rispettato l'accordo preso con i detective, loro lo raggiungono a casa e gli dicono «Guarda, potrebbe esserti sfuggito, ma ricorderai l'impegno di oggi, quello di passare alla stazione di polizia per fornirci i campioni del tuo DNA e le impronte digitali». Reggie dimostra di aver cambiato idea, infatti dice agli investigatori che non è più disposto a fornire volontariamente i suoi campioni di DNA e che ha assunto un avvocato. Se gli investigatori intendono stabilire ulteriori contatti con lui, dovranno farlo tramite il suo legale. Adesso la polizia, come potrete immaginare, diventa alquanto sospettosa. Reggie si rifiuta di far analizzare il suo profilo genetico e ha trovato un avvocato in tempi rapidissimi. Sia chiaro, rivolgersi a un avvocato è un suo diritto, così come rifiutarsi di fornire il DNA. Siccome non è ancora stato arrestato, la polizia non può obbligarlo, ma questo comportamento genera nuovi dubbi. Insomma, se Reggie fosse innocente, dovrebbe avere interesse a fornire un campione di DNA e le impronte digitali, proprio per essere escluso dalle indagini il prima possibile. In questo modo dimostrerebbe che non ha niente a che fare con l'omicidio della sua figliastra e paleserebbe la propria volontà di aiutare la polizia a individuare il vero assassino. Eppure, all'improvviso, Reggie ha stranamente deciso di non essere collaborativo e le stranezze non si fermano qui, perché anche nei suoi spostamenti dell'11 luglio, il giorno del delitto di Brittany, c'è qualcosa che non torna. Reggie ha spiegato alla polizia di essere uscito di casa intorno alle 7 del mattino, dopo la sua compagna Angela. Quindi è l'ultima persona ad aver visto Brittany viva. Era solo in casa con lei prima di recarsi al lavoro. Subito dopo essere uscito, sempre secondo la versione di Reggie, era andato in un cantiere edile in Bourbon Street, che si trova a un paio di minuti dalla sua abitazione. Poi si era presentato in un altro cantiere ai Pinewood Avenue, successivamente si era recato in un negozio di ferramenta, e infine doveva incontrare una potenziale cliente di nome Amanda Scott. Amanda aveva chiesto a Reggie e al suo padre di svolgere dei lavori per lei. Allora Reggie, quel pomeriggio, era passato a prendere il genitore come programmato. Poco prima delle 16, come sappiamo, si era recato a casa. Reggie doveva fare giusto un salto veloce per recuperare alcuni documenti indispensabili all'incontro con la cliente. Tuttavia, una volta entrato nell'abitazione, Reggie l'aveva ritrovata in un insolito disordine. Aggirandosi nelle varie stanze, alla fine aveva scoperto il cadavere della figliastra nella sua camera da letto. La ragazza versava in uno stato orribile che gli aveva provocato una rabbia intensa. Reggie dice ai detective che aveva afferrato il corpo di Brittany per cullarla tra le braccia. La stringeva forte a sé mentre urlava affinché il padre che lo attendeva in macchina sopraggiungesse. Infine, avevano chiamato i servizi di emergenza. Secondo la polizia, diversi aspetti della storia di Reggie non quadrano. Ad esempio, Reggie non può aver abbracciato e dondolato il corpo di Brittany senza essersi macchiato vistosamente di sangue. E a questo proposito c'è un episodio da raccontare. Quando i servizi di emergenza sono arrivati sulla scena del crimine, anche i media, scoprendo la notizia, sono giunti sul posto. I giornalisti hanno scattato diverse foto e fatto anche dei video che riprendono la polizia all'esterno della casa della vittima e i suoi familiari. Una delle foto ritrae la madre di Brittany, Angela, mentre piange. E Reggie che le sta accanto confortandola con un'aria turbata impressa sul volto. Ebbene, se osservate questa foto, noterete che Reggie non ha tracce di sangue addosso. Quindi come può aver cullato davvero il corpo della sua figliastra che, a seguito della coltellata alla gola, aveva perso moltissimo sangue? La domanda che la polizia si pone è, perché Reggie ha mentito? Stava forse cercando di sviare le indagini, dipingendosi come un patrigno amorevole e premuroso, sconvolto dall'omicidio della figliastra, quando in realtà era stato lui a ucciderla. Un altro campanello d'allarme risuona quando arrivano i risultati del rapporto dell'autopsia di Brittany. Durante la chiamata al 911, l'operatore aveva detto ai Wix di tentare la rianimazione cardiopolmonare per cercare di salvare Brittany in attesa dei paramedici. Reggie al telefono aveva fatto credere all'operatore di eseguire il massaggio cardiaco, ma il medico legale, nel condurre l'autopsia, non trova alcuna prova che la procedura di emergenza sia stata effettuata davvero. Reggie quindi ha mentito anche su questa circostanza e ancora una volta la domanda che sorge spontanea è una. Perché? Perché non aveva nemmeno tentato di rianimare la sua figliastra? C'è una triste e cruda risposta a questa domanda. Reggie in realtà è il responsabile della morte di Brittany, quindi non voleva salvarla, oppure già sapeva che la rianimazione non sarebbe servita. Tutti questi elementi rendono la polizia fortemente scettica nei confronti del patrigno, che viene ritenuto il probabile autore del reato. Ma ovviamente prima di accusarlo e arrestarlo occorrono maggiori prove che lo inchiodino al crimine. La polizia deve quindi scandagliare palmo a palmo il suo alibi, verificare con scrupolosità la sequenza temporale degli eventi da lui descritti. Così facendo, gli investigatori trovano altre falle nella versione di Reggie. Reggie aveva detto alla polizia che quella mattina era uscito di casa alle 7 e che non era tornato fino a poco prima delle 16. Aveva affermato di essere stato fuori casa tutto il giorno per via del lavoro. Ma ha mentito anche su questo, come evidenziano due testimoni che vivono nei pressi della casa di Reggie. Reggie affermano che sì, alle 7 del mattino lo hanno visto entrare nel suo veicolo dopo che era appena uscito di casa. Ma in realtà Reggie non è andato molto lontano. Ha fatto in versione di marcia un incrocio in fondo alla strada ed è tornato verso casa sua. Reggie non ha mai rivelato questo dettaglio nella sua dichiarazione iniziale. Forse aveva solo dimenticato a casa qualcosa di cui aveva bisogno, quindi era tornato velocemente a recuperarlo. Ma allora, perché non dirlo alla polizia? Reggie, come detto, ha affermato di essere uscito alle 7 e di non essere tornato a casa fino al pomeriggio. Ma c'è anche la testimonianza di una postina che lo smentisce. Questa donna si fa avanti e riferisce alla polizia di aver visto Reggie rincasare intorno all'ora di pranzo, proprio mentre lei gli stava per consegnare la posta. Lui, quel giorno, alla postina, non era sembrato quello di sempre. Era infatti turbato e nervoso, forse perché aveva appena commesso un omicidio ed era salito dal panico. In ogni caso, ancora una volta, Reggie ha saltato un passaggio nella narrazione dei suoi movimenti e sposta alla polizia. Poi un vicino fa luce su altre incongruenze della versione di Reggie. Infatti dice alla polizia che lo aveva visto fuori da casa sua intorno alle 11 di quel giorno. Gli aveva anche parlato. Di nuovo, questo frangente Reggie non l'ha rievocato interfacciandosi con la polizia. A seguito di queste segnalazioni, la polizia esamina più a fondo l'attività svolta da Reggie l'11 maggio a Pinewood Avenue, scoprendo che era effettivamente andato al lavoro. Ma c'è di più. Alcuni testimoni lo hanno identificato proprio a Pinewood Avenue, mentre bruciava qualcosa dentro un secchio. Dopodiché aveva versato il contenuto del secchio in un bidone della spazzatura, fuori dal cantiere. La polizia ovviamente è interessata a scoprire a cosa Reggie avesse dato fuoco. Forse stava cercando di eliminare le prove legate all'omicidio della sua figliastra? I detective si recano a Pinewood Avenue, ispezionano il bidone della spazzatura e all'interno trovano un cellulare. Ecco l'oggetto che era stato incendiato. Il telefono apparteneva proprio a Brittany. Infatti, come ricorderete, i detective non lo avevano individuato in casa durante la perquisizione, quando c'era in ballo l'ipotesi della rapina finita male, poi accantonata. Come detto, tutti gli oggetti di valore erano ancora presenti in casa, a parte il cellulare di Brittany, appena riemerso, bruciato, in un bidone della spazzatura. Ma incredibilmente le prove contro Reggie non finiscono qui. Ricordate di Amanda Scott? Era la potenziale cliente che, secondo il racconto di Reggie, lui e suo padre avrebbero dovuto incontrare nel pomeriggio dell'11 luglio. Ebbene, la polizia scopre che questa persona non esiste. Non c'è nessuna Amanda Scott. Reggie aveva detto alla polizia di aver parlato con lei al telefono parecchie volte il giorno in cui Brittany era stata uccisa. Ma anche analizzando il cellulare non emerge alcuna traccia di queste fantomatiche chiamate. Non ci sono prove che Reggie avesse mai avuto un contatto con una donna di nome Amanda Scott. La necessità di recuperare dei documenti utili all'incontro con lei, motivazione per cui Reggie sostiene di essere rientrato a casa, è anche questa un'invenzione. Reggie voleva che suo padre fosse lì presente nel momento in cui lui avrebbe finto di scoprire il corpo senza vita della sua figliastra. In questo modo Reggie intendeva allontanare da sé i sospetti della polizia, dimostrando che non poteva essere l'assassino di Brittany, visto che era in compagnia di suo padre quando aveva trovato il cadavere della diciottenne. Reginald Senior poteva testimoniare quanto il figlio ne fosse rimasto stravolto. Dopo aver raccolto tutte queste prove, la polizia è ormai assolutamente certa che l'uomo che ha ucciso Brittany Lottris è il suo patrigno, Reggie Wicks. Brittany è stata brutalmente assassinata da una delle persone che le erano più vicine, da un familiare che avrebbe dovuto amarla e proteggerla. Tuttavia, al momento, nonostante sia evidente che l'assassino è Reggie, non è altrettanto chiaro il motivo per cui voleva morta la sua figliastra. Questo almeno fino a quando la polizia non interroga alcuni amici di Brittany e sua sorella minore Asti sulla relazione tra la ragazza e il patrigno. Tutti riferiscono che i due non avevano affatto un buon rapporto. Brittany non sopportava Reggie, anzi, lo odiava, perché lui cercava sempre di controllare lei e ogni aspetto della sua vita. In sostanza, decideva lui per Brittany. Era Reggie che le diceva cosa poteva o non poteva fare, chi poteva vedere nel tempo libero e chi no, persino quando voleva incontrare la sua sorellina. Nella maggior parte delle volte, Reggie non aveva permesso a Brittany di stare con Asti. Nonostante Brittany fosse diventata maggiorenne da poco, Reggie cercava di controllarla sempre, ma Brittany non disprezzava il suo patrigno soltanto per la sua natura impostiva. Secondo alcuni amici, Brittany nel confidarsi con loro aveva lasciato trapelare che temeva il suo patrigno. Aveva davvero paura di lui. Brittany aveva persino raccontato a un'amica il motivo per cui era così terrorizzata, perché Reggie aveva esercitato violenza intima su di lei. Comprensibilmente, dopo aver raccolto la confidenza di Brittany, alla sua amica si era spezzato il cuore. Era così arrabbiata pensando a ciò che le era successo. Aveva esortato Brittany a parlarne con degli adulti, a dire tutto alla polizia. Lei sarebbe stata sempre al suo fianco e l'avrebbe aiutata in ogni modo possibile. Tuttavia, Brittany le aveva ribadito che non poteva assolutamente denunciare Reggie e le aveva chiesto di dimenticare questa angosciante confidenza. Siccome l'amica le aveva risposto che non avrebbe mai e poi mai potuto dimenticare l'orribile faccenda che la coinvolgeva, allora Brittany aveva affermato che in realtà stava scherzando, che nulla di quanto raccontato era vero. Probabilmente Brittany aveva ritrattato tutto perché temeva delle ripercussioni violente da parte di Reggie. Cosa avrebbe potuto farle sapendo che lei si era rivolta alle autorità? Non è mai stato accertato che Reggie avesse esercitato violenza intima sulla sua figliastra, ma è possibile che sia successo. Qualora Brittany non avesse subito violenza intima prima di morire, probabilmente Reggie aveva simulato questo tipo di molestia sempre nell'intento di depistare le indagini. Mi spiego meglio. Come detto sulla scena non è stato rilevato alcun liquido seminale, quindi probabilmente Brittany era stata ferita di proposito nella zona intima tramite un oggetto contundente dopo che aveva perso i sensi o dopo che era stata strangolata da Reggie. Infine l'assassino l'aveva rivestita. Inscenando una violenza intima, Reggie pensava di coprire le proprie tracce perché la gente, secondo lui, mai avrebbe pensato che un patrigno potesse assaltare la propria figlia in quel modo. Di conseguenza, tutti avrebbero puntato il dito verso qualcun altro. Poco più di un mese dopo l'omicidio, il 12 agosto 2005, Reginaldo Wicks Jr. viene arrestato con l'accusa di aver ucciso la diciottenne Brittany. Deve essere stato straziante per i cari di Brittany scoprire che a toglierle la vita era stato il suo patrigno. Ciò nonostante, la madre di Brittany, Angela, è stata al fianco di Reggie dopo il suo arresto. Il suo compagno è stato accusato di aver ucciso sua figlia con una notevole quantità di prove che lo dimostrano. Eppure Angela gli rimane accanto durante i procedimenti giudiziari. Si ritiene che Angela volesse negare l'evidenza a se stessa, forse non poteva sopportare che l'uomo che amava aveva ammazzato sua figlia. Reggie comunque intuisce che non ha senso cercare di negare l'omicidio, specialmente considerando le prove in possesso della polizia. Se si dichiarerà non colpevole e andrà a processo, dovrà correre il probabilissimo rischio di essere condannato e mandato in prigione a vita. O peggio, la giuria potrebbe infliggergli la pena di morte. Reggie quindi fa un accordo con le autorità e presenta un Alford Plee, che nel linguaggio giuridico statunitense è una dichiarazione resa dall'imputato per poter ottenere un accordo di patteggiamento. Reggie in pratica non vuole pubblicamente dichiararsi colpevole del reato di omicidio, ma riconosce che l'accusa può fornire alla giuria un quantitativo di prove sufficiente a ottenere un verdetto di colpevolezza. Reggie Wicks quindi entra in tribunale avendo accettato l'accusa di omicidio di secondo grado e di violenza intima di secondo grado. Non gli viene attribuita l'accusa di omicidio di primo grado perché non ci sono prove sufficienti per dimostrare che avesse commesso il crimine con premeditazione, quindi pianificandolo. Prima di rivelarvi il verdetto, vi riassumo la versione degli eventi che ha ricostruito la polizia. Si ritiene che la mattina dell'11 luglio 2005, dopo che la madre della vittima, Angela, era uscita di casa per andare al lavoro, Brittany e Reggie avevano avuto un'accesa discussione, iniziata proprio nella camera da letto della diciottenne. La lette ben presto si era trasformata in una lotta fisica. Reggie era diventato violento, aveva sovrastato Brittany sul letto, caricando tutto il suo peso su di lei, in modo che non potesse più muoversi. Si presume che Reggie non avesse intenzione di strangolarla usando la gruccia, intendeva soltanto sottomettere Brittany al suo controllo. Onestamente questa ricostruzione non mi convince del tutto, ma è solo una mia opinione. Qualunque fossero le circostanze, Reggie aveva esercitato una tale pressione con questa gruccia sul collo di Brittany che lei era svenuta. Ritrovandosi davanti alla sua figliastra priva di sensi, Reggie, forse, aveva pensato di averla uccisa. Ecco perché probabilmente era andato nel panico. Ma qualora lei fosse stata ancora viva, doveva comunque assicurarsi di eliminarla definitivamente, altrimenti Brittany avrebbe potuto rivelare che lui l'aveva aggredita quella mattina. Dunque, alla fine Reggie aveva deciso di uccidere Brittany per farla tacere per sempre. Si era recato in cucina, aveva afferrato un coltello e l'aveva pugnalata alla gola. Come vi ho già detto, durante questo arco di tempo, Reggie aveva anche violato Brittany con un oggetto contundente. Dopo l'omicidio, aveva cercato di coprire le proprie tracce costruendo un alibi e aveva preso il telefono di Brittany per bruciarlo e distruggerlo. Forse voleva dare l'idea che il cellulare fosse stato rubato da un ladro. Come è emerso, Reggie era tornato a casa più volte durante il giorno. Infatti, alcuni testimoni l'avevano visto nei pressi dell'abitazione di Scales Street sia verso le 11 che verso le 12. Probabilmente lui era rientrato apposta per mettere in disordine la casa per far attribuire quell'omicidio a una rapina finita male. E ora torniamo al verdetto. Dopo aver presentato la dichiarazione dell'Alford Plea con l'accusa di omicidio di secondo grado e violenza intima di secondo grado, nel 2008, Reggie Wicks viene condannato ad appena nove anni di carcere. Nove anni per aver violato e ucciso una giovane donna innocente. È davvero pazzesco. Posso solo immaginare il dolore e la rabbia che i cari di Brittany hanno provato nei confronti di questa sentenza. È davvero vergognoso. Ahimè, questa è la pena che deve scontare quell'uomo. Anzi, trascorre effettivamente in prigione anche meno. Sette anni. Infatti viene rilasciato già all'inizio del 2015. Viene però di nuovo arrestato circa un anno dopo il suo rilascio, nel 2016, per aver violato il regime di libertà condizionale. Dal 2023, Reggie Wicks è di nuovo un uomo libero e in tanti sostengono che lui se la sia cavata abbastanza bene. La quantità di tempo che ha trascorso in carcere per scontare una pena legata a crimini come la violenza intima e l'omicidio è davvero irrisoria. Brittany, secondo me, e secondo molte altre persone, non ha davvero avuto giustizia. Questa è una storia davvero tragica e con un finale che ci lascia amareggiati. Brittany aveva solo 18 anni, stava per iniziare a costruire il suo futuro, voleva studiare, sognava di diventare un'insegnante. E invece, dopo una lite di certo evitabile, qualcuno che avrebbe dovuto amarla, proteggerla e sostenerla, le ha strappato la vita. E questo ci porta alla fine di questo video. Io sono molto curiosa di sapere cosa ne pensate di questo caso. Trovo che la sentenza sia vergognosa, ma insomma, ve l'ho già detto durante il video. e fatemi sapere che cosa ne pensate di questo caso, se lo conoscevate già. Come al solito, ci becchiamo nei commenti qui sotto. Io nel frattempo vi mando un bacione e noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene, ma soprattutto, prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti! Ciao a tutti!